Per le elezioni politiche, Verdi e Sinistra Italiana scendono in campo insieme. Due temi su tutti che li tengono insieme, le energie rinnovabili e i diritti per tutti. A Taranto, candidati per la Camera al Collegio Plurinominale, Angelo Bonelli, Elisabetta Piccolotti, Giovanni Carbotti e Sonia Fornaro. Per il Senato, Ilaria Cucchi, Domenico Caporusso, Caterina Marini, Vincenzo Puzzovio per il Plurinominale Pugliese. Coniugare il tema della giustizia sociale con quella climatica e lo vediamo oggi con il caro Energia. La responsabilità dell'aumento dei pezzi energetici sta nel gas e la irresponsabilità di chi negli anni passati ha puntato a far rendere l'Italia dipendente dal gas. Pensiamo e ricordiamo che l'ex amministratore delegato dell'ENDI diceva che chi si occupava delle rinnovabili era un ubriaco. Queste sono le incondizioni in cui ci hanno portato. Ora bisogna puntare sulle rinnovabili perché hanno un costo energetico basso e danno una risposta alla crisi climatica. I nuovi driver di sviluppo devono necessariamente passare per la transizione ecologica, per la transizione energetica e per la lotta alle disuguaglianze sociali. Taranto oggi sta diventando proprio un modello, un esempio in questo senso, con tutta la programmazione e le azioni che sono state messe in campo per quanto riguarda la decarbonizzazione o per quanto riguarda le azioni nell'ambito del JTF o per quanto riguarda i progetti che puntano per esempio la creazione di un idrogenab.